L'unità di terapia semintensiva per la cura dell'ictus che ha sede presso il reparto di neurologia dell'ospedale di Porto Gruaro ha ricevuto in questi giorni il prestigioso premio internazionale Angels Diamond. È l'unica stroke unit da averlo ottenuto in Veneto e tra le poche in Italia. È un premio ambito riconosciuto a livello internazionale e sono veramente felice che sia adatto a questi professionisti che chiaramente vede premiata tutta l'azienda perché questo è un lavoro di squadra che coinvolge lo stroke, la neurologia ma anche il pronto soccorso, la radiologia, il laboratorio, gli specialisti che danno la consulenza e la riabilitazione che chiaramente poi interviene nella fase post-acuta. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato grazie ai risultati ottenuti come il numero dei pazienti trattati in fase acuta, in media 300 ricoveri all'anno, la rapidità di somministrazione delle terapie, la prevenzione delle complicanze, la correttezza delle terapie di profilassi in fase secondaria. Il tasso di mortalità a 30 giorni in questa unità operativa è tra i più bassi d'Italia, circa il 5% contro una media nazionale di circa il 10%. Il dottor Antonio Baldi, responsabile della Stroke Unit di Porto Gruaro, ha ritirato il premio a Lione nei giorni scorsi. È un premio che certifica soprattutto la rapidità di intervenire con il trattamento di rivascolarizzazione di una patologia a tempo dipendente come l'ictus cerebrale. Oltre alla rapidità della somministrazione delle terapie, vengono presi in considerazione parametri della qualità delle cure, della diagnostica. È ampliamente dimostrato che il ricovero in una Stroke Unit è in grado di ridurre in modo significativo la mortalità o l'infermità. Questa azienda sanitaria, oltre 20 anni fa, è stata una delle prime in Italia a dotarsi di un'unità di cura dedicata alla gestione dell'ictus in fase acuta. I risultati ottenuti da questo reparto testimoniano la bontà degli interventi e delle cure, il premio ricevuto e il giusto riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi. Grazie. 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 Grazie.